magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale nel video di oggi andremo a vedere le due top 11 per la ventinovesima giornata di serie a come sempre prima la top scommesse bar underdog e dopo finiamo con la top 11 classica mi raccomando di sostenermi come sempre con un like e l'iscrizione al canale per chi volesse essere seguito per questo rush finale vi ricordo che ci sono gli abbonamenti in base diciamo ai vantaggi che volete avere vorrei ringraziare tanti ragazzi che si abbonando anche in questo periodo livello campione magari per essere seguiti o nei loro fantacalci privati o nei fantacalci al listone e io mi sono già messo a disposizione per aiutare un po tutti andiamo a fare un recap allora oggi sarò in live alle ore 14 e 30 qui su youtube live breve 20 30 minuti poi ci spostiamo su twitch per altri 20 30 minuti domani invece ho il dubbio se far uscire il video dei fantaconsigli in pillole perché si gioca alle ore 17 e sono corto con i tempi quello non ve lo prometto però sicuramente ci sarà la live dei fantaconsigli anche domani credo intorno alle ore 11 qua su youtube un'oretta di live e poi ci spostiamo su twitch bene andrei subito a far vedere le top 11 cominciamo cominciamo da quella scommessa allora in porta ci ho messo terracciano anche ieri in coppa italia grandissima prestazione è un portiere affidabile che si è guadagnato il posto da titolare perché se vi ricordate a inizio anno era arrivato collini ed era lui che doveva fare il titolare invece il buon pietro terracciano a suono di prestazioni direi è andato e si è preso il posto titolare anche meritatamente passiamo alla difesa il primo che ci ho messo è davide calabria sicuramente quando noi andiamo ad acquistare un giocatore come calabria a all'asta del fantacalcio sappiamo che sicuramente non ci farà 38 partite perché è un giocatore che qualche problemino fisico durante la stagione ce l'ha sempre però è un giocatore di quelli che il suo lo fa e non ti costa magari un occhio della testa ha quasi sei di media voto e sei di fanta media voto io l'ho visto bene contro il napoli ok un po' ha sofferto Kovara ma non più di tanto e stavolta in mina l'empoli potrebbe essere un giocatore che ci porta un bonus poi bisognerà vedere anche se sarà titolare o meno perché il milan poi avrà l'andata di champions però intanto noi ce lo mettiamo secondo nome in difesa zanoli giocatore che ormai se ne parla tantissimo di lui io avevo visto dei piccoli spezzoni col napoli mi aveva incuriosito tanto sono andato a vedermi dei video a me impressionava e sono sono ben contento che stia venendo fuori sto giovane secondo me potrebbe essere un giocatore che fa comodo anche al napoli secondo me il napoli l'ha dato in prestito proprio per fargli fare tanti minuti in serie a che magari non avrebbe fatto al napoli però potrebbe far comodo per un futuro e lo vedo bene contro la cremonese onestamente samp cremonese è una partita forse da tripla in cui la samp la vedo anche leggermente favorita perché la cremonese ha giocato come dicevamo ieri contro la fiorentina in coppa e e tanti tanti titolari sicuramente il triplo impegno è impegnativo e poi ci ho messo dodò un giocatore che era arrivato con tante belle aspettative lo si è pagato anche un pochino all'asta c'era dove andava al 2 dove al 3 anche forse al 4 per cento è uno che sicuramente ha deluso fino ad ora però è un giocatore che ultimamente sta facendo bene spinge tanto inizia a difendere meglio è uno che magari il prossimo anno lo prendi a poco niente e potrebbe fare una grande stagione quindi l'ho voluto mettere perché è una partita quella della fiorentina contro lo spezia non proibitivo passiamo al centro campo allora io ci ho messo primo nome radonic sicuramente la partita non è facile quella del toro e quindi secondo me tanti potrebbero andare a pancarlo però potrebbe essere un errore anche abbastanza grave perché perché lui è ex di giornata viene da una prestazione veramente importante contro il sassuolo diciamo è mancato solo il gol ci è andato vicino con la traversa forse in qualche situazione poteva far meglio poteva essere più cinico però radonic c'è tanta roba ne avevamo parlato anche quest'estate di lui anche con lo zio chris purtroppo non ci si poteva aspettare un così basso minutaggio da parte da parte di juric io mettevo un po sullo stesso livello radonic mirancic forse leggermente avanti vlasic probabilmente ha pagato quello che dice juric che per lui non è ancora un giocatore però anche juric si è accorto che da quando ha detto in quel modo radonic ha fatto delle prestazioni importanti complice anche l'infortunio di mirancic poi passiamo a pessina e qui sul monza avevo ne volevo mettere uno c'era ciuria però è un giocatore che già qui è molto forzato perché è un giocatore che sta dimostrando di fare tanti bonus è un po il suo anno quindi non l'ho voluto mettere e poi c'erano pessina c'era macin che mi intrigava c'era sensi soprattutto che mi intrigava alla fine ho scelto pessina però anche sensi è un giocatore che mi intriga udine non lo so vedo un monza che qualche gol potrebbe anche fare il colpaccio a udine sarà una partita da tripla anche questa forse più di quanto dicono le quote vediamo vediamo cosa ne esce e poi ci ho messo radicrunic il giocatore che anche lui è un po indecifrabile perché all'empoli ha fatto benissimo poi arrivato al milan ha giocato anche poco quando ha giocato non sempre ha fatto bene quest'anno pure ha alternato prestazioni molto positive ad altre non proprio non proprio belle però è un giocatore che secondo me in milan tempo li può far bene ex potrebbe giocare al posto di brian diaz si parla o di lui o di charles de ketelar quindi è uno che magari tu lo metti ovviamente ragazzi parliamo di fanta da 10 in su per andare a rischiarlo e se magari giocasse lì la peretta ce la potrebbe mettere e poi l'ultimo nome è quello di rolando mandragora giocatore che personalmente a me piace tanto è uno che sta crescendo soprattutto nelle ultime sei giornate è cresciuto veramente tanto oltre ai gol a qualche gol anche tante ottime prestazioni va spesso al tiro è stato anche sfigato con alcune parate alcuni ehm alcuni legni quindi è un giocatore che poteva far meglio in carriera è stato limitato tanto agli infortuni però fiorettina spezia può essere uno che va che va a farci un bonus anche icone vi lancio anche quest'altro nome icone potrebbe essere uno di quelli guardiamo anche chi è partito titolare magari ehm ieri in coppa anche se la fiorettina pure è andata tanto di super titolari però magari qualcuno al centrocampo di ieri potrebbe riposare davanti ci ho messo il primo eh dessers a me è piaciuto tanto gli è mancato il gol forse se fosse stato leggermente più cinico un gol avrebbe portato però con i secoli ma i gol non si fanno i fanta non si vincono però stasettimana magari contro la samp potrebbe essere un giocatore che ci porta un gol magari un po' inaspettato diciamo che pure eh che è uno eh da cui ci si aspettava di più eh perché come giocatore penso che l'abbiamo visto tutti che è un giocatore eh che ci poteva fare un quarto slot d'attacco importante ehm non è stato così eh anche a volte per sfortuna a volte non è riuscito a a buttarla dentro ci sono anni in cui un attaccante calcia male però è il tuo anno e la butti lo stesso dentro ci sono altri anni in cui eh anche quando la prendi bene non non la palla non entra però devo dire che a me è un attaccante che piace un attaccante che piace eh contro la samp potrebbe portarci un bonus ovvio ragazzi sempre parliamo di scommesse quindi non da schierare assolutamente in base sempre al vostro attacco poi ci ho messo Tammy Ebram in molti potrebbero dire come Ebram è un top è un semi top era forse perché quest'anno se andiamo a vedere ehm le sue la sua media voto è di sempre 6.2 fanta media voto 6.94 non proprio quelle di un attaccante eh top un attaccante eh in base ovviamente ragazzi al budget che abbiamo destinato eh per andare a prenderlo eh non lo so qui sono andato molto a sensazione perché riguardando la partita ma riguardando eh ricordando la partita contro la Samp non è che sia stata eh una partita epica per Tammy Ebram eh però non lo so a sensazione eh col Torino lo vedo bene non chiedetemi il perché perché sicuramente lo marcherà Scurs qualora partisse titolare Ebram perché c'è pure il Gallo Belotti che eh da ex potrebbe partire al primo però non lo so ho la sensazione che Ebram possa portare un bonus io ve lo porto poi ovviamente decidete voi e il nome forse più affidabile forse più scontato eh più in hype di questo periodo eh è Cabral eh devo dire che la top 11 l'avevo scritta già ieri ehm quindi non non mi sono basato sulla partita di ieri anche ieri eh un gran bel gol di testa eh è un attaccante che eh per chi mi segue già da oltre un anno io l'avevo portato a gennaio e l'anno scorso non ha fatto bene eh questo lo dico anche e soprattutto perché magari ci sono anni che eh un minimo di ambientamento un minimo di conoscenze lo dobbiamo anche concedere ai giocatori eh cambia tutto a volte magari uno non ci pensa però un giocatore che eh gioca in un campionato estero eh magari con delle abitudini anche alimentari cambia tutto gli allenamenti i compagni di squadra cioè un minimo un minimo ragazzi bisogna anche aspettare i giocatori eh ovvio magari chi l'ha preso l'anno scorso dice perché ho preso Artur Cabral quest'anno invece sta godendo nonostante l'arrivo di un attaccante forte come Jovic eh però Cabral aveva dimostrato che lui eh le qualità le ha eh lì eh aveva fatto una montagna di gol e e ora li sta facendo anche nel campionato italiano eh prima di passare alla top 11 classica vi faccio e mi faccio un altro regalino la fortuna viene a me la fortuna viene lì dai ragazzi su con i like andiamo a vincere queste ultime dieci giornate che restano di scontri allora allora passiamo alla la top 11 classica come sempre partiamo eh da un modulo eh con quattro difensori settimana vi darò anche delle alternative per ogni ruolo e poi passiamo anche al 3 4 3 per chi magari gioca senza modificatore di difesa allora in porta sicuramente ci mettiamo meglio eh la partita è sulla carta abbastanza facile l'avversario non è non è eh l'Eppoli non fa tanti gol in trasferta e il Milan eh sta partita la deve portare a casa sia per prepararsi bene all'incontro di Champions ma anche soprattutto perché i punti servono per andare eh per qualificarsi la prossima Champions League quindi eh devo dire che Megnan è un po' il mio eh rimpianto diciamo così di quest'anno perché eh se avesse fatto eh decisamente cioè se avesse fatto non solo lui bene ma più che altro eh anche il suo sostituto anche il Milan avesse subito meno gol eh sicuramente in tanti fanta eh soprattutto mh ne fanta eh con gli abbonati con youtuber sarei messo meglio perché avevo tanti megnoni quanto giochiamo in quasi tutti col mod a sei fasce quindi un portiere che ti porta un voto buono ogni giornata sarebbe stato eh eccezionale eh però purtroppo così non è stato eh alla fine sono in quasi tutti a podio però eh magari un contestare a podio essere terzo un conto essere primo però ancora ragazzi voglio lanciare questa cosa prima di continuare eh non mollate i fanta cioè ci sono fanta in cui io ero magari quinto e ora già mi ritrovo terzo secondo eh a quattro cinque punti cioè finché state ancora a dieci dodici punti oh sono recuperabili poi ovvio serve eh serve un po' di fortuna e anche avere una buona rosa eh però i punti sono sempre recuperabili ragazzi perché ci stanno ancora trenta punti che non è che siano pochi eh pensiamo questa giornata no magari c'era chi aveva Meret chi aveva Di Lorenzo chi aveva Kim Kvaraschelia Osimane che si è rotto ecco eh magari i primi sti giocatori ce li hanno e bastano qualche flop eh qualche turnover per la Champions e via cantando eh e si possono recuperare tanti punti primo nome eh Destiny Udo G eh giocatore che eh personalmente a me piace tanto ehm ho un po' di dubbi su questo finale di stagione nel senso che io spero giochi fino all'ultima giornata però lui ormai non è di proprietà dell'Udinese quindi magari eh nelle ultime potrebbe dare spazio Mister Sottil ad altri giovani eh giocatori anche in vista del prossimo anno però finché c'è ragazzi è un giocatore veramente interessante perché ti può fare assist ti può fare gol eh è uno che a me piace tanto perché vi può portare tanti bonus eh questa settimana ha portato un cinque e mezzo però veniva da una serie di partite veramente importanti cui eh di base era sempre sei e mezzo eh poi passiamo vabbè a quello che credo che metteremmo tutti in una top undici questa settimana che è Teo Hernandez eh non credo che ci sarà turnover importante per il Milan anche se con l'Empoli eh perché è veramente importante questa partita e Teo eh potrebbe essere una partita da Teo uno da eh che si butta dentro può fare eh può fare gol eh può calciare anche qualche rigore perché non scordiamo che eh in assenza di Giroud eh Teo può calciare i rigori eh Teo cioè Giroud potrebbe anche partire dalla panchina perché alla fine c'hai quell'Origi che non è Giroud eh però è una partita tra virgolette sulla carta mh abbordabile e quindi magari potrebbe iniziare Origi e poi se la partita non si sblocca o non sta andando bene fare fare i cambi eh poi ci ho messo Re Carlos Augusto non mi è piaciuto particolarmente contro la Lazio anzi Fatta Calcio.it è stato anche generoso questa volta non lo è quasi mai stato con Carlos Augusto eh con i voti eh ha portato a caso un sei forse qui poteva starci anche qualche votaccio però alla fine la sufficienza l'ha portata io l'ho voluto mettere perché secondo me ehm sulle corsie Udo G da una parte Carlos Augusto magari lato Monza eh potrebbero portare qualche bonus eh non so se sarà una partita cioè forse non non è una partita sulla carta da chissà quanti gol però io due tre golletti li vedo in questa partita secondo me potrebbe essere una partita abbastanza aperta sono due squadre che giocano a viso aperto quindi mi aspetto mi aspetto qualche eh qualche buon bonus in questa partita e poi l'ultimo è il classico difensore da modificatore Chris Smalling giocatore eh importante per il modificatore perché il suo sei e mezzo barra sette arriva spesso poi a volte magari vi prende l'ammunizione a volte magari eh ci porta un sei eh però vi avevo detto settimana scorsa mettendo nel top undici occhio al gol di Chris Smalling non è arrivato però per chi è stato attento eh almeno in due tre occasioni di testa è stato veramente pericoloso e qualcuno poteva fare anche anche meglio forse però è uno di quelli che dici io ce lo metto magari mi porta eh un buon voto allora allora passiamo al centrocampo leviamo eh il 4 di 3 mettiamo il 3 4 3 e andiamo col primo nome ragazzi stasettimana devo dire che ho fatto fatica a scegliere i 4 centrocampisti li ho scritti qui eh sul quaderno ho fatto un po' di fatica perché ci sono partite un po' complicate e quindi non era facilissimo allora su quara non perdo tempo alla fine l'istato centrocampista è un bug so che tanti mi diranno ma eh chi ha quara lo mette sempre vi ripeto ancora questa non è una top undici per dire questi sono schierabili lo dico sempre nei fantaconsigli ovviamente chi ha quara e osimen quando c'è eh li mette sempre però qui la devo mettere perché ci sono tanti ragazzi che giocano con i fantacalci all'istone in cui ogni giornata possono rifare la squadra e quindi se io non gli mettessi magari non lo mettono si perdono uno che non puoi perdere l'istato centrocampista mai poi secondo nome partita difficile ma eh il il sergente Milinkovic Savic è tornato eh con mio fratello ci siamo persi il bonus eh io ero io ero per Milinkovic Savic lui era per Orsolini eh alla fine io avevo già scelto in difesa ha scelto lui Orsolini e l'abbiamo preso in quel posto eh Milinkovic uno dice ma c'è Lazio Juve sì ma Milinkovic spesso ha punito la Juventus Milinkovic da quando guardate la partita anche col Monza no? Nel secondo tempo ha alzato il livello in una maniera impressionante nel primo tempo è stato un primo tempo un po' sottotono poi dal gol gli ha dato tanta fiducia anche perché gli mancava da tanto sto bonus e ha fatto poi una partita veramente spettacolare eh quindi sono convinto che anche contro la Juve potrebbe portare qualche bonus vi ripeto settimana è difficile perché anche eh Orsolini da ex che non ho messo contro Atalanta non lo metto perché non so più se mi parte dal primo cioè se io metto Orsolini e poi mi parte dalla panchina sclero e quindi preferisco magari un giocatore come Milinkovic che è la parte difficile però eh mi può portare sempre dei bonus terzo nome eh qui andiamo di un giocatore che non sempre porto però stasettimana mi intriga Daviduccio frattesi ehm lui ha fatto la sua partita contro il Toro forse eh poteva portare anche qualche bonus è uno che va sempre dentro va sempre eh però eh sono convinto che contro il Verona eh potrebbe portarci un bonus non mi aspetto un Verona Sassuolo con chissà quanti gol però magari il Sassuolo eh due tre golletti potrebbe anche metterli a Verona eh il Verona sicuramente ha bisogno di punti eh però ultimamente eh non sta andando granché quindi la vedo favorito il Sassuolo e quindi ci lancio Daviduccio frattesi quarto e ultimo nome nel nostro centrocampo ma lasciamo i like mi son dimenticato di chiedere i like dagli e dagli e dagli ragazzi Zaccagni eh è vero la partita è complicata contro la Juve ci avrei potuto mettere uno Juventino sì ma però dovevo pancare Milinkovic perché Zaccagni è praticamente una punta eh sta facendo benissimo per me col Monza è vero che non ha fatto gol però ha fatto un'altra grande partita eh io l'ho vista con molta attenzione eh e Zac quest'anno ne sta sbagliando veramente poche di partite quindi non ho tanti dubbi sull'andare a metterlo magari può non portare un bonus perché la partita è complicata eh però è uno che mi dà sempre magari più garanzie rispetto a tanti 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 altri nomi qui mi lancio anche un nome un po' meno blasonato da poter inserire magari in la top 11 ed è Mkhitaryan in Salernitana Inter eh l'Inter deve deve cercare di riprendersi e portare i punti a casa e contro la Juve Mkhitaryan è stato nuovamente tra i migliori dell'Inter se non il migliore e quindi potrebbe essere un'alternativa se non volete rischiarvi magari due Lazio eh dietro non vi ho detto l'alternativa a i vari Smalling Carlos Augusto eh e di Lorenzo in Lecce Napoli secondo me un qualcosa potrebbe portare viene da una partita disastrosa ma non solo lui un po' eh un po' tutto il Napoli eh sicuramente avranno voglia di riscatto e a Lecce potrebbe far bene andiamo con i tre nomi davanti primo nome ehm bah non so da dove partire però partiamo da lui eh andiamo andiamo a scrivere è proprio Rasmus Oilund eh lo so che è un rischio perché ha un allenatore che non sa neanche lui eh che squadra andrà a schierare eh questa settimana eh ho letto ho letto ho visto un video a settimana non mi ricordo neanche di chi in cui diceva eh Gasperini eh il giorno che deve eh giocare va su tutti i siti maggiori dei maggiori quotidiani e vede qual è il tridente eh che nessuno ha messo lì eh che parta titolare e allora schiera quelli eh è una battutaccia però sembra quasi che sia così perché penso che nessun quotidiano aveva beccato che Gasperini partiva con Pasalic Muriel e Zapata io spero che questa settimana non dico tutti ma almeno Rasmus Oilund parta titolare contro il Bologna e lui potrebbe fare molto bene ragazzi perché la difesa del Bologna è vero che alterna prestazioni in cui magari eh fa clean sheet come contro l'udinese un po' inaspettato perché l'udinese alla fine è una buona squadra eh però un Oilund contro un Lukumi potrebbe essere eh qualcosa di importante quindi assolutamente io lo metto in top 11 andiamo col secondo nome eh questo settimana non ho dubbi nel metterlo io credo che Rafa Leao parta titolare questa giornata e lo metto contro l'Empoli ehm l'Empoli a destra ha un giocatore che spinge bene come Buei però magari la fase difensiva fa più fatica eh alla fine se Leao ha fatto benissimo contro il Napoli perché non potrebbe ripetersi contro l'Empoli ovvio è una partita diversa in cui magari l'Empoli è una squadra che si chiude di più è una squadra che eh pensa prima a non prenderle e poi a darle e sicuramente poi quando vai a Milano è la prima cosa che pensi però se la partita magari riescono a sbloccarla già nel primo tempo con eh qualche gol e quindi l'Empoli è costretto a ad aprirsi un pochettino Leao può essere devastante negli spazi quindi eh sta settimana credo sia d'obbligo andare a mettere una top 11 in cui ci sono tutte queste partite un po' complicate ora vi do due nomi ve lo scegliete voi chi vi piace di più io ne metto uno però eh devo dire che a me non è piaciuto non è piaciuto né eh in Coppa Italia non l'ha mai presa non l'ha mai beccata eh cioè ma proprio non dico solo di bonus ragazzi non dico solo eh ti riporta cioè veramente Martinez in campo sembrava nullo sembrava inesistente è stato annullato è un giocatore che soffre un po' di questi momenti cioè lui se becchi il momento in cui fa una camionata di gol ti svolta un fanta poi magari come l'anno scorso per tre mesi tre mesi un attaccante di quelle con quel potenziale con quelle caratteristiche eh non fa gol eh ora la partita sicuramente sulla carta è una partita buona eh in cui vai a Salerno una squadra che ehm alla fine gioca sempre a viso aperto non è una squadra che eh predilige la fase difensiva no nonostante sia eh una squadra che lotta per non retrocedere però sicuramente l'Inter deve fare un'altra prestazione eh magari con la Fiorentina la prestazione un minimo c'è anche stata però eh troppo poco eh tu la Fiorentina dovevi dominare invece la Fiorentina ha fatto la sua partita e non ha rubato nulla portando i tre punti a casa mi aspetto magari un Lautaro diverso eh sicuramente però eh io forse stasettimana eh il giocatore che potrei provare a mettere davanti è Mimmo Berardi ehm alla fine è uscito per per Crampi non dovrebbe essere nulla di grave eh non è un infortunio solo me col Verona potrebbe far bene perché il Verona dietro concede è vero contro la Juve hanno preso solo un gol però la Juve aveva creato anche tante altre palle gol e poi mi aspetto un sassuolo diverso col Toro non hanno fatto benissimo eh potevano fare assolutamente meglio soprattutto eh soprattutto in termini di gioco perché davanti la palla eh non è mai arrivata ne hanno viste poche lì davanti quindi eh il gol è nato proprio da un'iniziativa di Berardi che calcia eh non bene Milico Izzavic e eh Pinamotti è là eh al posto giusto nel momento giusto per buttarla dentro eh però non lo so a Verona mi intriga tanto Mimmo quindi io proverei a metterlo titolare bene ragazzi siamo giunti alla fine di questo video io vi ricordo un like un like un like iscrizione al canale vi aspetto pomeriggio ore 14 e 30 per la live qui su youtube per i fantaconsigli live breve poi ci spostiamo su twitch continuiamo di là vi ricordo di venire a seguirmi anche su twitch perché sia oggi ma anche domani ci saranno live prima qui su youtube e poi continuiamo su twitch ragazzi con questo è veramente tutto ciao ciao